Tanti giovani in attesa che scoccasse l'ora di convocazione per ricevere la dose del vaccino. Nessuna calca né confusione. È un weekend di accelerata della campagna vaccinale diverso dagli altri perché oggi e domani nei centri dedicati alla popolazione della città di Salerno, così come in altri comuni della provincia, l'asle di Salerno ha organizzato appuntamenti speciali in cui vengono somministrate le dosi. L'obiettivo è sia invogliare i cittadini, soprattutto i più giovani, a vaccinarsi, cogliendo l'occasione di prenotare la loro convocazione direttamente online, sia di utilizzare tutte le dosi disponibili. Alcuni hub, come il centro sociale di Salerno, saranno aperti anche di notte. Da ieri mattina il lancio dell'operazione Open Day and Night per gli over 18, che nel giro di pochissimo tempo ha subito esaurito le dosi disponibili, non mancando anche qualche problema tecnico online per alcuni cittadini che si sono visti per errore ricevere la prenotazione in luoghi diversi da quelli di residenza. L'iniziativa in ogni caso sarà ripetuta. Anche il sindaco di Salerno questa mattina ha effettuato un sopralluogo nei centri vaccinali della città, l'occasione per ringraziare i sanitari impegnati nella campagna vaccinale e lanciare un appello ai giovani ad atteggiamenti responsabili. Sì, ho fatto un giro nei tre luoghi che stanno svolgendo questa campagna, ovvero qua, che mi tirano al centro sociale e al PIP Nautico. Devo dire che c'è una compartecipazione attenta dei miei concittadini, tantissimi giovani, mi sono soffermato a fare quattro giacciari con loro, entusiasti e soprattutto uno svolgimento ordinato dell'iniziativa. Sono arrivato al centro sociale e addirittura un cittadino mi ha confortato dicendo guardi sindaco tutte le cose vanno bene, complimenti, anche in queste circostanze anche un incoraggiamento serve agli operatori che molto si spendono in questa campagna vaccinale. Quindi credo che le cose stiano andando bene, abbiamo vaccinato complessivamente, credo, il 50% della popolazione. Se le cose continuano con questo ritmo e questa serietà, noi potremo uscire in tempi ragionevolmente brevi da questa funesta pandemia. Naturalmente bisogna avere comunque comportamenti responsabili, attenti, giudiziosi, perché la pandemia c'è, non l'abbiamo superata. Questa è una cosa che dobbiamo capire in via definitiva. È dietro l'angolo, però se noi ci comportiamo in questo modo, con prudenza, con intelligenza, vaccinandoci, facendo in modo che la cosa vada avanti con ritmo e sostegno, credo che in tempi ragionevolmente brevi potremo uscire dalla pandemia. Ma se stamattina si è registrato ordine da parte dei giovani in attesa dinanza ai centri vaccinali della città di Salerno, non si può dire lo stesso rispetto al comportamento dei ragazzi in alcuni luoghi, soprattutto di sera o meglio di notte, anche in orario post-lockdown. Anche ieri sera, disagi in piazza Abate Conforti, in pieno centro storico a Salerno, dove oltre la mezzanotte si presentava questo scenario. Tanti giovani in strada, auto e motorini in transito, in area dove non è consentita la circolazione, assenza di controlli delle forze dell'ordine. Situazioni difficili che spingono già oltre le sere d'estate e alle possibili difficoltà di gestione della movida. Certo, rispetto soprattutto per gli altri, oltre che per se stessi. Essere vaccinati non è qualcosa che ci pone al riparo da tutto. Intanto bisogna fare le due dosi, dipende dai vaccini. Ma anche una volta espletata tutta la profilassi, comunque bisogna avere comportamenti responsabili, intelligenti e lungimiranti. Per fare in modo che, dando una spadata in via definitiva, approfittando anche dell'estate e del ritmo della vaccinazione che comunque immunizza gran parte della popolazione, potremo tirare le somme positive nei prossimi mesi.